Guardate! La luna ci mostra per come siamo dopo il vaccino. Non siamo tra i vivi, perciò non possiamo morire. Ma neppure siamo morti. Troppo a lungo ho dovuto patire la sete senza poterla estinguere. Troppo a lungo sono stato affamato da morire e non sono morto. Non sento niente. Né il gusto delle bevande, né il gusto del cibo. Né la sensazione soffocante di una mascherina. Cominciate a credere alle storie di complotti, Miss Turner? Ci siete dentro!